Nessuno merita lodi per le sue buone azioni se non hai il coraggio di essere cattivo. Come possiamo essere sicuri che Rocher non gli abbia parlato della manovra? Né l'unico che può disturbare i loro piani. Evidentemente lei non si rende conto di cosa c'è in gioco qui. Penso che lei sia in pericolo, padre. Vorrei che lei mi confessasse. Grazie a tutti.